ciao e bentornati a crochet romance e al nostro cuscino con le mattonelle granny square questo video è in collaborazione con il gruppo facebook la borsa di mary poppins e il secondo video della serie io pubblico un video a settimana per completare questo cuscino e ovviamente sotto all'infobox trovate tutti i link utili per completare il cuscino quindi sia i link al filato che i link ai gruppi facebook che i link ai video precedenti o alla playlist quindi per questo secondo video andiamo a lavorare a fare la nostra prima decorazione con i fiorellini sopra la mattonella e per farlo scegliamo come base la mattonella lavorato in solid granny square e con il colore a che avete scelto nel mio caso il bianco e per fare i fiorellini utilizzeremo i colori b e c passiamo quindi al tutorial andremo a realizzare tre roselline due più piccole con il colore b e una più grande con il colore c lasciamo una bella codina prima di fare l'asola d'avvio in modo da avere spazio poi per andare a fare la cucitura sulla mattonella iniziamo ad avviare le nostre catenelle per le roselline piccole andiamo ad avviare 22 catenelle mentre per la rosellina più grande fatta con il colore c andiamo ad avviare 36 catenelle lavoriamo adesso la prima riga e per fare ciò andiamo ad avviare altre tre catenelle sia per la rosellina grande che per la rosellina piccola la lavorazione non cambia cambia solo il numero di catenelle d'avvio iniziali quando abbiamo fatto le tre catenelle andiamo a lavorare due maglie alte nella quarta catenella dall'uncinetto quindi 1 2 3 4 ora facciamo una catenella di separazione saltiamo una catenella e lavoriamo 3 maglie alte nella catenella successiva 1 2 e 3 e adesso dobbiamo ripetere fino alla fine della nostra catenella quindi facciamo una catenella di separazione e saltiamo una catenella di base nella successiva lavoriamo 3 maglie alte termineremo il giro con un gruppo di 3 maglie alte e poi ci rimane ancora una catenella libera la ignoriamo ci servirà poi quando cuciamo la base ci dà un po di sostanza per passare l'ago ora facciamo due catenelle voltiamo il lavoro e iniziamo a lavorare la riga numero 2 lavoriamo una maglia alta sopra la prima maglia alta poi facciamo due maglie alte sopra la seconda maglia alta e una maglia alta sopra la terza maglia alta adesso facciamo due catenelle e lavoriamo una maglia bassa attorno alla catenella di separazione del giro precedente e adesso si ripete facciamo due catenelle una maglia alta sopra la prima maglia alta 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta una maglia alta sopra la terza maglia alta 2 catenelle e una maglia bassa attorno alla catenella proseguiamo così fino alla fine della riga quando abbiamo raggiunto l'ultimo gruppo andiamo a lavorare una maglia alta sopra la prima maglia alta 2 maglie maglia alta e poi una maglia alta entrando nella terza catenella che abbiamo fatto nel giro precedente poi facciamo due catenelle e una maglia bassissima entrando nella catenella e adesso possiamo ripassare il filo attraverso l'asola stringere tagliare il filo e lasciare una codina abbastanza lunga per cucire io ho già cucito i primi due fiorellini alla mattonella e adesso andiamo a vedere insieme come cucire la terza prendiamo lago e inseriamo il filo di una codina all'interno dell'ago e poi iniziamo ad arrotolare la nostra rosellina quando abbiamo fatto un pezzetto con lago andiamo a fissare passando attraverso le maglie poi giriamo ancora un po e facciamo un'altra cucitura continuiamo a girare e a cucire fino a fissare tutti i petali alla nostra rosellina quando arriviamo qua all'ultimo lembo andiamo a cucirlo passando anche in questo senso in modo che il petalo sia ben fissato fatto ciò la nostra rosellina è pronta ora possiamo posizionarla sulla mattonella dove vogliamo e andiamo a cucirla passando attraverso un filo della mattonella e poi ci spostiamo di fianco passando attraverso la parte più esterna della rosellina di nuovo attraverso la mattonella e poi di nuovo attraverso la rosellina e andiamo tutto attorno quando la codina sta per terminare come in questo caso vado a nasconderla passando sempre qui attraverso le maglie della rosellina per averla nello stesso colore e faccio una cucitura avanti e indietro e posso tagliare la codina adesso proseguo il mio giro di cucitura con l'altro filo e alla fine nasconderò anche questa codina e questo è già tutto per la nostra prima mattonella ci vediamo settimana prossima con l'avellimento della seconda mattonella iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e per tutti i link utili andate a vedere nell'info box sotto a questo video grazie e a presto ciao